Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Il mondo dello spettacolo è stato avvolto da un velo di lutto per la perdita di una brillante stella. In un improvviso e triste sviluppo si è diffusa la notizia della scomparsa della talentuosa attrice Daniela Costa all'età di soli 42 anni. La conferma del suo prematuro decesso è arrivata dal suo collega e amico Miguel Angel Munoz, conosciuto per il suo lavoro in serie tv di successo come i miei adorabili vicini, Paso Adelante e la sindrome di Ulisse. Le circostanze esatte della morte di Daniela rimangono a volte nel mistero, con dettagli non ancora rivelati al pubblico. Originaria di Barcellona, Daniela Costa aveva iniziato la sua carriera artistica in giovane età, guadagnandosi il plauso e l'ammirazione del pubblico con la sua partecipazione nella serie I miei adorabili vicini. Nonostante il successo e la notorietà, negli anni successivi, Daniela aveva scelto di allontanarsi dalla ribalta, mantenendo un basso profilo sulla sua vita privata. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra colleghi e ammiratori, che ricordano con affetto il suo talento e il suo contributo al mondo dello spettacolo. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Grazie a tutti!